Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi è il 2 dicembre 2019, due splendide renne qui ai giardini pubblici della stazione e abbiamo qua Gianni, ciao Gianni! Queste qui sono le renne che solitamente erano in fondo a Via Dante Le hanno messe qui, va bene no? Sì, benissimo! Perfetto, abbiamo visto che sono già aperte le casettine, le cappannine di Natale qua andiamo un po' avanti Gianni a vedere un po' queste cappannine, questi prodotti abbiamo fatto prima un giro di ispezione, abbiamo visto che ci sono delle cose molto molto buone salami, abbiamo visto che ci sono dei cannoli siciliani, qui abbiamo il miele, miele italiano ok, qui abbiamo degli oggettini, bracciali, collane andiamo un po' più avanti è una bella iniziativa vero Gianni? Sì perché c'è più spazio qua e poi dopo che si ravvivano un po' i giardini esatto, quindi è una cosa buona via, positiva andiamo avanti, ancora degli oggettini, questi qui servono per addobbare l'albero di Natale queste decorazioni, continuiamo con la carrellata, qui abbiamo una cappannina in fase di allestimento facciamo vedere il chiosco dove andiamo di solito a far colazione, vero? chiosco, proseguiamo diciamo che i prossimi giorni qui ci saranno tantissime persone, vero Gianni? siamo prossimi al Natale ecco, questo iniziamo con delle cose molto squisite gli arancini, eh Gianni? sì, prodotti siciliani tutta roba siciliana buongiorno buongiorno questi dolciumi, eh, i cannoli cosa ne pensi Gianni? al pistacchio, eh? guarda che roba qui abbiamo dei prodotti al pistacchio tutti confezionati ecco qua ancora miele miele italiano buongiorno oh, buongiorno possiamo il sole, sì? sì un po' di sole un po' di sole speriamo che nei prossimi giorni si possa vedere perché di acqua ne abbiamo abbastanza, vero Gianni? ormai ci siamo dissetati una cappannina ancora chiusa ma prossimamente sarà aperta abbiamo un altro un'altra cappannina qua cosa c'è di buono qui, Gianni? abbiamo delle caciotte, vedo patatine fritte, olive ascolane le olive che a te piacciono, Gianni qui si possono gustare le patatine fritte qua dentro riparati e qua è uno dei tuoi delle tue cappannine preferite i salami, eh Gianni? i formaggi eh sì ecco guardate che bello spettacolo eh? qui è roba piemontese tutta roba piemontese un'altra cappannina con delle cose buonissime cioccolata cioccolata a peperoncino peperoncino c'è di tutti i gusti guardate che buono buongiorno buongiorno prendere un pezzettino ne prendo uno anch'io è artigianale grazie da noi a Perugia Perugia? sì ottimo buongiorno buongiorno vorremmo fare un po' di acquisti allora qualche regalo ho visto prima che ti eri fermato su questo su questa cappannina eri interessato a queste sciarpe di Kashmir del Nepal vuoi fare qualche regalo a casa immagino, vero? guardate che belle Gianni sei interessato a queste, vero? sì vabbè finiamo la carrellata dalle bancarelle poi ho già ho già capito che vuoi fare un primo acquisto un primo regalo per il Natale per me per te vabbè finiamo lì in fondo Gianni andiamo fino alla ruota e concludiamo il nostro servizio di Svegliati Alessandria abbiamo ancora una cappannina qui con degli oggettini di bigiotteria pensa frittelle se ti interessano le frittelle Gianni i dolci magari te che sei diabetico eh e qua concludiamo con questa splendida ruota finalmente funzionante mini ruota ecco girati un po' Gianni ecco finiamo qui il nostro video sto sto mangiando ancora cioccolata buona bene bene allora il tuo invito agli Alessandrini di venire qua vero? fare un giro fare un giro che ne vale la pena di fare rivivere i giardini pubblici bene va bene andiamo a farci un giro sulla ruota adesso andiamo sulla ruota a farci un giro andiamo a vedere dall'alto com'è sei in funzione sei in funzione ciao a tutti ciao Gianni ciao ragazzi ciao a tutti